La domanda che mi avete fatto più spesso, il vegetariano non mangia carne e pesce, il vegano invece non mangia e non beve tutto ciò che deriva e proviene degli animali che può essere per esempio il latte dalla mucca perché c'è uno sfruttamento, le uova delle galline perché c'è uno sfruttamento, senza contare vabbè tutto il resto, magari anche poi tutti gli articoli in pelle Sono diventato vegetariano quasi dieci anni fa, un giorno all'altro non ho più toccato nulla che avesse a che fare con carne e pesce E' una cosa che avevo già nella mia mente, però poi c'è stato quel cambiamento radicale che mi sono autoimposto L'ho fatto per una questione di coscienza, cioè non potevo più accettare il fatto che per un gusto personale, perché a me piaceva mangiare carne, non è che mi faceva schifo, il pesce non tanto Tutte le mie foto che avvio prima di diventare vegetariano erano davanti a una pizza con salsicce a friarelli o davanti che ne so a una fetta di carne così Non sono d'accordo, i vegani sono quelli che veramente si battono per il benessere animale Magari fosse così, ogni volta che tu vai al supermercato e compri un hamburger, stai letteralmente pagando qualcuno per farlo al posto tuo, quindi tu sei letteralmente il mandante Che cazzo me ne frega a me